Se nei giorni scorsi l'allerta meteo riguardava le forti raffiche di vento, oggi è la fitta nebbia che sta ricoprendo la nostra città. A risentirne però maggiormente sono i marinai che hanno bisogno di visibilità per un rientro sicuro al porto, ma grazie al nautofono che è stato installato poche settimane fa sul molo di Levante, la nebbia non è più un problema, anche se a tal proposito diverse segnalazioni arrivate questa mattina alla nostra redazione dicevano il contrario. Noi oggi siamo andati a verificare. Allora il nautofono, sentiamolo, sentiamo, funziona? Sì, fortunatamente, fortunatamente, insomma ce lo aspettavamo perché era tutto in regola, il cablaggio è tutto a posto. Chiaramente il lettore di rifrazione ottica è tarato per una certa distanza, quindi se la nebbia o la visibilità è superiore ai 50 metri lui non scatta, quando è inferiore allora parte l'autofono in automatico. Questo insomma ha tranquillità insomma per chi si preoccupava, si stava preoccupando che l'autofono funzionasse, no no funziona, è tutto in automatico per cui fidiamoci della tecnica. Allora il nautofono funzionale Allora il nautofono funzionale Allora il nautofono funzionale Allora il nautofono funzionale